Un cuore antico dalla mente giovane. Buon compleanno Cooperativa Ceramica. Non c'è famiglia di questo territorio che non abbia avuto o ha un componente che ha lavorato in Cooperativa Ceramica di Imola o per la Cooperativa Ceramica di Imola. L'augurio più sincero che rivolgo alla mia azienda è che vado avanti a far lavorare l'agenda di questo splendido territorio e continuo il suo percorso ancora per tantissimo tempo. Sono felicissimo di essere qui e festeggiare e ad augurare al gruppo Imola i miei migliori auguri. Mi piace pensare di non essermi mai arreso. Non è nelle mie corde farlo. Mi piace pensare che il mio gruppo sia fatto come me. Mi piace pensare che siamo cresciuti tanto e cresceremo ancora. Ti auguri Cooperativa Imola per i 150 anni. A i miei figli, a tutti i miei figli, a tutti i 150 anni sono un traguardo ma sicuramente anche un inizio in una nuova peste che non dimentica la tradizione. Auguri a tutti. Ne sono lieto perché vedo ancora quest'azienda ancora splendidamente in forma e spero che continui ancora per tanto tempo. Le faccio tanti, tanti, tanti auguri. We wish you all the next 150 years of succession and thumbs up a little people from our side. Spero che potremo contribuire nei prossimi anni a portare anche noi un aiuto concreto a questa crescita che a cui faccio tutti i migliori auguri. Auguri Cooperativa Ceramica di Imola. 150 anni di storia. Tanti auguri per i vostri 150 anni. Tanti auguri.